A Cerbo ci sono ancora novità per quanto riguarda il piano spiaggia del comune di Pescara, di cosa si tratta? Sì, una cosa molto negativa perché il comune di Pescara ha previsto, meglio la giunta comunale di Pescara per ora, di consentire l'aumento del 30% agli stabilimenti balneari, cioè 30% in più di volume sulle spiagge. Pescara è già la città che è la riviera con il mare invisibile, inaccessibile, la vista mare è preclusa quasi ovunque. Dare la possibilità di ampliare di un ulteriore 30% a me pare una follia. La giunta comunale racconta il vice sindaco del vecchio che sia un obbligo derivante dal pessimo piano votato insieme da D'Alfonso e Forza Italia, ma quel piano comunque non obbliga il comune, è una facoltà, quindi una scelta che fa la giunta di Padovano, Del Vecchio e Alessandrini, gli stessi che non hanno messo i divieti di balneazione quest'estate per favorire o ingraziarsi, secondo me da matti, la categoria dei balneatori. Noi invitiamo il consiglio comunale a non approvare questo piano così, non è vero quello che ha detto Del Vecchio che è stato concertato con gli ambientalisti. Noi invitiamo la cittadinanza, quindi l'associazionismo a protestare perché il mare è di tutti, non è solo di una categoria e agli stessi amici balneatori diciamo noi siamo con voi per batterci per il mare pulito, ma non potete chiedere la solidarietà sulla Bolkstein e poi pensare ancora che si possano fare queste cose da far west sulla spiaggia.